Gretano Masucci, forse è la giornata più difficile, anzi sicuramente la giornata più difficile da quando è iniziato il campionato? Sì, sì, purtroppo è brutto, nel senso ci aspettavamo altro, purtroppo diciamo un inizio un po' così, una concatenazione di eventi negativi e non siamo riusciti a rimetterla in sesto. Ne parlavamo anche con gli altri protagonisti che sono venuti nel post-gara, forse oggi è la gara dove il Pisa è riuscito a mascherare meno le assenze, le difficoltà ai giocatori in campo, veramente stringendo i denti? Sì, purtroppo venivamo da un periodo che sapevamo che dovevamo tenere botta, perché tra assenze, squalifiche, situazioni di mercato un po' così, però non è trovare alibi, niente, dobbiamo analizzare quello che è stato fatto, lavorare bene come stiamo facendo, ancora meglio, per poi riprendere bene dopo la sosta. Ecco, la sosta forse arriva nel momento ideale? Sì, sì, forse ci voleva, è il momento giusto.